Eh, chi faccia di 112? Ci sono due, ma che piccina? Vai! Ah, 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 ah! E' Davide! E' Davide! Ma questa mamma! Davide! 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 No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no! No, 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 no! No, 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 no! Sei tu che il tuo motivo prende, sei tu che più soldi da spendere, 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 sei tu che più soldi da spendere,